Il Napoli vale davvero una classifica da Champions, per l'Udinese invece un momento positivo in casa Al limite Cavani, al volo Andanovic 6 minuti di gioco, prima conclusione di Elison Cavani, il capo canoniero della serie Poi Totò Di Natale, attenzione all'inserimento di Sanchez, Di Natale tira De Santis ci mette Iguantoni e allontana C'è Sanchez, in uscita De Santis, la mette giù, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Udinese Il fallo di De Santis che viene anche ammonito La rincorsa di Totò Di Natale, Di Natale in cubo del Napoli, Napoletano non esulta Sanchez, Di Natale, Di Natale, mamma mia che gol Di Natale, 2-0 Ma hai visto con l'esterno, è una cosa impressionante L'ha voluta mettere lì, complimenti Totò, niente da dire Palla dentro per Cavani, posizione regolare, Cavani, Amsic Che occasione per il Napoli per entrare in partita Si va a battere Di Natale, Moivetto di Benassiacci, anche Sapata La palla va dentro direttamente, Di Natale, ancora tripletta contro il Napoli come l'anno scorso Ma qui c'è l'ingenuità di Amsic sul primo palo Gianluca guarda, lui salta, pensa che la palla va fuori, invece va dentro Amsic si riscatta subito Marek Amsic E segna il 3-1 al tredicesimo Che gol Che gol, veramente questo, anche un grandissimo gol Amsic la mette in mezzo La palla resta lì, Lavezzi, Cavani in aria Finisce a terra, calcio di rigore per il Napoli Domizzi sbaglia, questo l'invio Interviene su Cavani Prende il piede Amsic La rincorsa, la parata di Andanovic Ancora Lavezzi, prova ad entrare dentro, mette il palo in mezzo Cavani di testa Questa è sfortuna Altra grande occasione per il Napoli con Cavani Conclusione direttamente in porta di Gargano Andanovic la vede all'ultimo La vanna in angolo